Lentini e Francofonte, i carabinieri intervengono a seguito dei disagi provocati dalle avverse condizioni meteo. I carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso del pomeriggio e della sera di ieri a Francofonte e Lentini hanno soccorso nuclei familiari rimasti isolati e automobilisti in panna a causa delle forti precipitazioni del fango. Sotto il costante coordinamento della Prefettura di Siracusa, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti in riscontro alle numerose richieste d'aiuto, agendo in contesti particolarmente difficili a causa delle condizioni di molte arterie stradali, in particolare le strade provinciali in direzione di Scordie tra Carlo Lentini e la frazione di Pedagaggi, non erano transitabili per la presenza di detriti, fango e alberi caduti. In contrada Conte di Lentini i carabinieri hanno richiesto l'intervento di una unità proviale dei vigili del fuoco per soccorrere una famiglia rimasta bloccata dal fango. In contrada Xirumi una famiglia nell'attesa dei soccorsi è stata tranquillizzata dall'operatore della centrale operativa della Compagnia di Augusta tramite videochiamata. Nonostante notevoli disagi tutte le operazioni di soccorso sono concluse con successo.